Benvenuti al nostro nuovo videogiornale. Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, Marina Zola dichiarazione. Con il tema Imparate a fare del bene e cercate la giustizia, tornano dal 18 al 25 gennaio gli appuntamenti della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, celebrati congiuntamente dalla diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdotadino e di Foligno. Ce ne parla Marina Zola, responsabile dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo, intervistata da Marina Rosati. Siamo proprio in partenza con la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Qual è il tema di quest'anno Marina? Il tema di quest'anno è stato preso dal libro di Isaia ed è Imparate a fare il bene e cercate la giustizia. Il tema è stato scelto da un gruppo incaricato dal Consiglio delle Chiese del Minnesota ed è importante e significativo perché affronta la questione proprio della giustizia. Nella traccia loro la prevalenza è data alle problematiche connesse con il razzismo. Lo stato del Minnesota l'ha vissuto e lo vive ancora abbastanza pesantemente. Ma è proprio un'apertura a tutti gli ambiti di ingiustizia, discriminazione che in tutto il mondo si possono vivere. Una settimana ricca con tanti appuntamenti, tanti momenti. Ci vuoi dire quelli più significativi? Io partirei direttamente dall'appuntamento a San Ruffino, quello conclusivo con la celebrazione presieduta dal nostro Padevescovo e la partecipazione del reverendo anglicano Tim Daplin che è attualmente il cappellano della congregazione, il padre Petru Heisu che è il parro cortodosso romeno di Perugia e il Pavel Gajewski che è pastore della Chiesa Valdese di Perugia e della Chiesa Metodista di Terni. Questo è un momento sicuramente molto intenso e coinvolgente. Il padre Daplin ci seguirà per tutte le celebrazioni e terrà la riflessione a Santa Maria sopra Minerva. Proseguirà nelle altre chiese, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Basilica di Santa Chiara. Avremo poi la celebrazione nell'abbazia di San Pietro. E anche un flash a Foligno, abbiamo coinvolto anche Foligno. Esatto, perché qui stavo guardando le celebrazioni nella nostra diocesi. Il venerdì sera, perché abbiamo lavorato e lavoriamo insieme con la diocesi di Foligno, quindi tutto l'abbiamo programmato insieme, ci sarà anche la celebrazione nella Pro Cattedrale di Sant'Agostino a Foligno. In questo programma avete inserito anche un momento di dialogo ebraico-cristiano di cui si celebra la giornata. Noi l'abbiamo posticipata quando e con chi, Marina? Diciamo che la giornata di approfondimento e sviluppo del dialogo ebraico-cristiano dovrebbe essere all'inizio della settimana, perché proprio da queste radici comuni il nostro cristianesimo viene. Noi l'abbiamo posticipata al 26 gennaio e ci troveremo nella sala della spogliazione con il rabbino Benedetto Carucci Viterbi e come relatrice della parte cattolica la professoressa Giuseppina Bruscolotti dell'Istituto Teologico a Sisano. Qual è l'invito, l'auspicio e il desiderio per questa settimana? Penso che sia quello che connota le settimane, che non rimanga una settimana di preghiera, ma che la focalizzazione che noi facciamo in queste giornate come conversione personale, come riconoscimento delle proprie fragilità e difficoltà, per costruire insieme un mondo dove la giustizia prevale, dove la pace viene costruita insieme, ecco non si fermi, ecco non sia la settimana e il resto dell'anno poi ce lo dimentichiamo, ma che sia un impegno, un approfondimento che portiamo a lungo tutto l'anno. E si possa aggiungere ecco da Sisi questo spirito è ancora credo più forte? Direi che è anche molto significativo, anche lo stesso dialogo ebraico-cristiano, in Assisi, nello spirito di Assisi, ovviamente riceve una rilevanza particolare e anche un impegno per noi a corrispondere a questo, chiaramente. Tutto pronto per il giorno della memoria. La città di Assisi promuove una serie di eventi in occasione del giorno della memoria, venerdì 27 gennaio alle ore 11. Nella sala della spogliazione del Palazzo Vescovile ci sarà la consegna delle medaglie d'onore alla presenza del prefetto Antonio Gradone e con i saluti del sindaco Stefania Proietti e della presidente della regione Donatella Tesei e del vescovo delle diocesi di Assisi, non c'era Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino. La serie di appuntamenti si aprirà il 23, 25 e 27 gennaio alle ore 10 con Leggere la memoria per generare il futuro alla Biblioteca Comunale di Assisi e il 24, 26 e 31 gennaio, sempre alle 10, al Bibliopoint di Santa Maria degli Angeli. Sabato 28 gennaio alle 17 nella sala della conciliazione del Palazzo Comunale la storia di Marcella Ranzato in Paladin. A raccontare come un'impiegata comunale si è entrata nell'organizzazione che falsificava le carte d'identità saranno i figli Paolo e Anna Chiara. Domenica 29 gennaio in Piazza del Comune con partenza alle ore 15 il percorso alla scoperta dei luoghi assisani della memoria. Quest'anno farà tappa a casa di Maceo Angeli e alla Basilica di San Francesco. Gli appuntamenti di gennaio si chiudono lunedì 30 alle ore 15 al Teatro della Procevitate Cristiana con il concerto Keke Kinnor prendi il violino con Enrico Fink e i solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo. 50.000 euro per un'economia della fraternità Si chiudono il prossimo 31 gennaio i termini per partecipare al premio internazionale Francesco D'Assisi e Carlo Acutis per un'economia della fraternità che attribuisce un riconoscimento in denaro di 50.000 euro a progetti nati dal basso in un clima di fraternità. Sentiamo l'intervista rilasciata dal coordinatore del premio Monsignor Anthony Figueiredo. Siamo alla scadenza del bando 2023. Si chiude quando? 31 gennaio 2023. E quindi ecco, ancora ci sono un po' di giorni per partecipare a questo progetto che consiste, ricordiamolo. Allora, bisogna entrare nel pensiero di Papa Francesco che parla spesso di questa cultura dello scarto uomini e donne che vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo. Ecco, l'uomo non perfetto diventa scarto la società disabili, anziani, immigrati. E qui c'è bisogno, no? Di una nuova economia perché la parola economia viene dal oikos in greco che vuol dire la casa. Cerchiamo una casa comune. Quello che diceva la scrittura, no? La prima comunità, Gerusalemme, avevano tutto in comune e così non mancava nulla a nessuno. E questo è il contributo di questo premio della diocesi di Assisi proprio, no? Di passare da un'economia che uccide a un'economia che fa vivere. Un'economia che esclude a un'economia che include. Un'economia che disumanizza a un'economia che umanizza. Quello vogliamo qui nella diocesi. Chi può partecipare? Praticamente tutti. Questi sono progetti che arrivano a noi dal basso. E' molto interessante perché noi stiamo parlando di un'economia della fraternità dove un gruppo di persone vengono insieme usando il capitale della fraternità e i loro talenti. Non stiamo parlando soltanto dei soldi. Noi aiutiamo in questo senso con un premio di 50.000 euro. Ma le persone più, senza nulla, possono mettersi insieme usare i loro doni a creare nella loro città una nuova economia che li aiutano ma anche diventa segno per gli altri. Quali sono i riconoscimenti che la diocesi attraverso la fondazione Santuario della Spogliazione offre da al vincitore? Veramente meraviglioso perché prima di tutto è un riconoscimento. L'anno scorso i vincitori che erano 15 disabili immaginate che adesso sanno che qui in Italia ad Assisi sono riconosciuti. Questa è la prima cosa. Dopo c'è veramente un premio di 50.000 euro che è poco ma non è poco. Per esempio questi disabili che ogni mese guadagnano 15 dollari. È enorme. La terza cosa è un mantello con l'immagine della spogliazione di Francesco. Quel uomo che entrava l'uomo più ricco di questa città di Assisi è uscito l'uomo più povero per condividere con i più poveri la sua vita. Ed ecco l'ultima cosa è proprio una targa con le immagini di Francesco e Carlo Acutis perché stiamo parlando di due uomini che oggi hanno un influsso grandissimo. Francesco che entra l'uomo ricco esce povero per gli altri e Carlo Acutis l'uomo di nostri giorni che diceva la vita diventa veramente bella quando noi amiamo Dio sopra ogni cosa il nostro prossimo come noi stessi di ogni uomo ogni donna riflette la luce di Dio questo vogliamo spingere creare incoraggiare da questo Diocesi. Per avere le informazioni utili per inviare la propria proposta il proprio progetto dove andare dove leggere il bando i dettagli? Il sito Diocesi di Assisi riguarda premio Francesco Assisi Carlo Acutis è molto facile abbiamo tradotto in diverse lingue e già abbiamo ricevuto questo è interessante noi già abbiamo ricevuto diversi progetti da Africa da paesi molto poveri come Madagascar Etiopia Burkina Faso anche da Sud America abbiamo ricevuto progetti da Brasile Argentina Colombia Ecuador anche da Europa Asia India Filippine allora incorreggiamo questi progetti anche da qua siamo aperti a tutti quando ci sarà la premiazione? c'è sempre la festa del santuario della spogliazione quest'anno faremo tre giorni che cominciano il 19 maggio venerdì ci sarà un tipo di round table e dopo sabato 20 ci sarà proprio questo grande evenimento del premio chi ha vinto perché veramente è un premio e dopo domenica mattina proprio la festa della spogliazione una santa messa con il nostro vesco e noi speriamo anche un cardinale forse la santa sede Beato Angelo festa grande a Gualdo Tadino con il miracolo della fioritura fuori stagione del biancospino che quest'anno anche viste le temperature sopra la media si è ripetuta con qualche giorno di anticipo Gualdo Tadino ha celebrato il suo patrono Beato Angelo la tradizione vuole che dopo la morte del Beato Eremita e al passaggio della Salma le siepi di Biancospino e i campi di Lino si misero improvvisamente a fiorire quel tragitto è stato ripercorso sabato sera da una fiaccolata organizzata dal club alpino italiano CAI intitolata sulle orme del Beato Angelo che è partita dall'eremo di Capodacqua per poi ricongiungersi con l'altra partita dalla Basilica di San Benedetto nella giornata di domenica dopo la messa solenne della mattina presieduta dal vescovo Monsignor Domenico Sorrentino nel pomeriggio si è svolta in Basilica la cerimonia del Vespro con la consegna dell'olio per la lampada votiva da parte dell'amministrazione comunale per tutta la giornata la cripta del Beato Angelo è stata meta ininterrotta di tanti gualdesi devoti servizio civile i progetti nella diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdotadino è online il bando per il servizio civile per selezionare volontari da impiegare in progetti della diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdotadino svolgendo 12 mesi di servizio presso le opere segno della Caritas diocesana i posti messi a disposizione in diocesi sono 7 suddivisi su più progetti per 25 ore settimanali a scelta tra mensa centro di accoglienza a casa Papa Francesco due posti di cui uno riservato ai giovani con minori opportunità progetto prima gli ultimi emporio solidale diocesano 7 ceste tre posti di cui uno riservato ai giovani con minori opportunità progetto mani tese centro di volontariato sociale di Gualdotadino due posti di cui uno riservato ai giovani con minori opportunità progetto futuro in ascolto i requisiti di partecipazione tutte le informazioni sono riperibili sul sito della diocesi www.diocesiassisi.it e della Caritas italiana www.caritas.it i candidati possono inviare la domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all'indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie in realtà della diocesi scrivendo un messaggio whatsapp al numero 339-388-4342 vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo videogiornale a vi ringraziamo